Ciao a tutti ragazzi, questo è il prossimo video di Master Arrow, ci siamo qui su Pokémon Lost Silver, non ci vedrete mai. Bene ragazzi, sapevo che questa qui era una creepypasta molto bella, si sta registrando, è una creepypasta molto bella e niente, volevo giocarla, se volete vi metto pure un download in descrizione, perché i giochi in realtà non sono veri, ma sono tutta effetti, sono stati creati, e i giochi ci siamo facciamo il Voltrong, bene, non so se mi caccherò addosso, tanto l'avrò giocato circa 1000 volte. Ah, e allora, come si apriva? Ok, così. Ora Pokémon, una guida in italiano raga, eh. Dovevi andare qui su Harry, e scegliere Flash. Bene. No, non fa paura, ragazzi, adesso non troppo bravo. Ora qui dovrete andare tutto, in giù, ma tutto, c'è stato un cazzo di collo, ok. Un attimo raga, che come al solito guardo il video, quanto passa, perché ho sempre l'ansia che dopo magari il premio, quando ti metteremo 3 secondi a finirlo. Beh, sì, adesso, dice Harry, Harry, no, Harry, coro, nei giorni. Ora dovremmo vedere il piano, tornare, no ho sbagliato, ok raga eccoci tornati, scusatemi ho spelato come esco invece di fix e allora, scusatemi, bisogna spartigliarvi, allora prima bisogna guardare tutti gli anni, poi farei cancel, ecco tornerete in questo punto e vi succederà questa cosa, scusatemi se non ve l'ho fatto vedere, ma è delicente, potete scegliere una delle due parti tanto saranno uguali, però ora se noi ragazzi andiamo a vedere il nostro puntini puntini, attenzione, oh, ok, attenzione, vedete che non ha, niente, in questo precisamente siamo dei fantasmi, se non mi sbaglio, ora non me lo ricordo, si siamo fantasmi se non mi sbaglio, andiamo avanti, allora, mi sono mandato una barretta, guarda il mio script, questi qua saranno tutti i fantasmi, se ci parleremo non ci diranno niente, guardate, non ci diranno niente, prendendo la Z, perché la Z corrisponde alla A, la X, la D, insomma credo che gli emulatori li avete usati, appena riparremo in questo punto, dobbiamo combattere contro Rosso, qui ragazzi la situazione si fa difficile, come potete vedere c'è un Pikachu, povero, che non ha niente, e noi avremo Seleby, però mancherà un pezzo di skin di Seleby, unico cosa che ho prima è, Perish Song, per me era l'ultimo canto, chiamolo, vedete Z all'infinito, perché qua tutte le robe che è già chi lo rompe, e il nostro attacco fallisce, per me che motivi, Pikachu usa frustrazione, facendo già arrivare la vita al 6%, non sa perché Seleby usa Pain Split, e Pikachu, mappure lui ha la vita a una gialla, Salibi è morto, anche Pikachu è morto, e il rosso non avrà più la testa, risponeremo in questo posto, qui saremo ancora più fantasmi, allora questo è un pezzo difficile, dovete scendere dalle scale, uscire, e dovete andare avanti, eh, ma dico all'infinito, se non andate avanti all'infinito, non ci riuscirete, andate avanti, proprio senza deviare, ecco, quindi non arriveremo in questo punto, parlate con Gold, con la Z, e niente, qui farà questo balletto magico della ballerina morta, e saremo qui dentro a questa tomba, se ci muoviamo, vedete come circa, e vedremo dei bumbum, come quando va sbattere, andiamo a prendere la cartella, non c'è più niente, gli allenatori sono tutti morti, rip, ecco, e questo è il Voltron, ragazzi, il gioco si conclude qui, non ti può fare più niente, e niente, vi posso dire, da mostrare è tutto, al prossimo video, ciao ciao!